Giron lanzo, gironzano, gironzalon Prima di tutto permettimi Java di ringraziarti perché hai come dire risposto a questa nostra chiamata Alle armi, diciamo, questo desiderio di onorare incroci anche quest'anno Anche se non possiamo incontrarci Stiamo chiamando i nostri amici E nella lista c'è iJaba Shego che così tante volte ha collaborato con noi E quindi la prima domanda che faccio iJaba dopo questo ringraziamento di cuore è questa Come stai? Dove sei? Cosa vedi intorno a te? Allora, di salute? Bene Poi io sono reduce da una... questa è la mia seconda quarantena Perché tra dicembre e gennaio ho avuto un'operazione E quindi sono stata 45 giorni a casa Appena ho messo il muso fuori di casa, ritorno a casa Con la quarantena che stiamo condividendo tutti quanti Anche per una ragione molto seria Perché soprattutto in Italia la gente sta molto male E se possiamo, stando a casa, aiutare la gente a non ammalarsi E' una cosa buona che possiamo fare E' chiaro che ho delle preoccupazioni come tutti E preoccupazioni economiche, lavorative Ma soprattutto io le chiamo le preoccupazioni della diaspora Io ho una famiglia, sono di origine somala Una famiglia che è sparsa per tutto il mondo Prima dell'inizio di questa crisi Anche se stavano molto lontano dall'Italia dove vivo io Mi sembrava sempre che potevano stare dietro l'angolo Che era possibile raggiungerli Perché comunque c'era un aereo C'era una possibilità E invece adesso li sento lontanissimi E sono preoccupata tantissimo Anche perché nei vari paesi in cui si trovano i miei familiari Non tutti hanno capito bene Soprattutto all'inizio Quanto grave fosse questa crisi del coronavirus Io ho fratelli che sono negli Stati Uniti E sono molto molto preoccupata per loro Anche perché hanno un'età di rischio Tra i 60 e i 70 anni E sono preoccupata per gli altri familiari che stanno in Inghilterra Quando Boris Johnson parlava di immunità di gregge Io avevo nella mia testa la condizione degli ospedali britannici Perché li conosco, li ho frequentati Ho tantissimi parenti che sono finiti negli ospedali So come funziona E so che in una crisi emergenziale L'NHS, il Servizio Sanitario Britannico Potrebbe avere dei grossi problemi Quindi è una conoscenza anche intima degli altri paesi Non li conosci solo per, che ne so L'Empire State Building O la Torre di Londra O Buckingham Palace Li conosci dagli ospedali E quindi questa cosa mi ha messo molta angoscia all'inizio Poi abbiamo trovato modi per parlarci All'inizio anche loro non erano molto convinti di questo coronavirus Noi dall'Italia, che eravamo già in lockdown, mandavo articoli E devo dire che questa connessione di diaspora ci ha aiutato in qualche modo a convivere, a sopravvivere Ma anche a darci ognuno delle notizie utili E Giaba Roma com'è? Roma è quasi spettrale Io anzi dico sempre che Roma non la vedo più Io vedo il pezzo di strada davanti casa E io vivo in un quartiere, il Pigneto Che è un quartiere multietnico Ma anche di movile, di giovani Molto rumoroso E improvvisamente è caduto un silenzio Quasi spettrale Roma è anche i suoi suoni E la prima cosa che mi è mancata Sono i suoni Anche quelli brutti Anche il traffico Però tecnicamente questo silenzio è la cosa che ricorderò di più di questo periodo Eh già Senti Giaba, penso tu sia la persona ideale per a cui chiedere cosa pensi di questa etichetta uscita dalla bocca di Trump rispetto a questo virus L'ha chiamato The Chinese Virus Tu che ti sei occupata così tanto della forza e della potenza e della tragicità delle etichette di razza, di pelle, di etnia Un commento da parte tua su The Chinese Virus mi faceva piacere È un commento tremendo È un'etichetta tremenda E mi ha fatto ripensare a quelle lunghissime file che si sono fatte in varie città americane Per comprare armi e munizioni E una cosa che non si è detta è che alcune persone che erano in fila erano asiatici e americani Perché chiaramente hanno una grande paura di quello che può succedere ai loro corpi Che quello che può succedere alla loro incolumità fisica Perché se chiami una cosa, etichetti Chinese Virus Etichetti come il virus cinese Le persone che sono di origine asiatica li metti automaticamente in pericolo E come può difendersi la persona appunto di origine asiatica E io temo che uno degli aspetti Ci saranno sconvolgimenti da questo coronavirus Geopolitici, sociali, eccetera Però dobbiamo stare molto molto attenti A proprio all'etnicizzazione della malattia E soprattutto alla emarginazione dei corpi A me la cosa che mi ha molto molto colpito Proprio nelle prime 24 ore È la sparizione completa dei migranti Dei figli di migranti dal discorso pubblico Alcuni addirittura sostenevano E non faccio nomi ma medici illustri Che gli africani non si ammalano E sono tutte cose che ti fanno ricordare Delle brutte brutte pagine del passato Che si diceva appunto Gli schiavi neri erano gli schiavi all'epoca Sono più forti, sono più resistenti E questo ha portato le persone a finire in schiavitù E a diventare anche cavie per esperimenti medici È chiaro che gli africani si ammalano di coronavirus Purtroppo ci ammaliamo tutti Ma dire che non si ammalano Nasconde dietro un discorso neocoloniale e schiavistico Molto molto preoccupante per me Mi sono ricordata di quel medico E statunitense, Sims Che faceva esperimenti senza anestesia Sul corpo delle donne nere Perché le donne nere sopportavano il dolore E lui è un ginecologo Ha inventato anche lo speculum Però ecco Lo ha inventato sul corpo delle donne nere E questa cosa Quando l'hanno detta L'hanno cominciata a dire Sono fake news, bufale Però nascondono sempre dietro Qualcosa di molto pericoloso E quindi dobbiamo stare molto attenti Alle parole che si usano E soprattutto dobbiamo stare molto attenti A non emarginare gruppi sociali Cosa sta succedendo adesso ai Rom Nei campi Rom Cosa sta succedendo a migranti Che si trovano nei CIE Cosa sta succedendo in Libia Non è che i lager e i campi in Libia Sono scomparsi e la gente sta bene Uscita da lì La gente sta ancora lì Con più il problema del virus Quindi io penso che uno sforzo Che gli intellettuali del mondo devono fare È stare molto attenti alle notizie sul coronavirus Ma stare attenti anche Alle altre notizie E soprattutto non abbassare la guardia sul razzismo Che è una forma di virus strisciante Che da anni ne continua a fare E tu ci aiuti senz'altro con le tue riflessioni Ad avere sempre questa consapevolezza A proposito di riflessioni A proposito di Come dire Quello che sta suscitando in noi A livello di pensieri Quello che ci sta capitando Mi fa collegare al titolo di un tuo libro del 2010 Che recita La mia casa e dove sono Non so Una domanda Prima di passare alle ultime cose Che su cui tu hai lavorato E su cui vorrei farti qualche domanda Questo titolo risuonava in me Appunto La mia casa e dove sono Adesso stiamo riflettendo su cosa significa casa Pensi mai a quel titolo E a che cosa sta cambiando Per questo virus Sì Io ho pensato in questi giorni A chi una casa non ce l'ha Proprio una casa proprio mobile La struttura Sono stati i primi Ad essere colpiti dalle multe Per esempio a Roma Ne hanno multati tantissimi Di senza tetto E la casa è anche un concetto Adesso Che ci va un po' stretto Perché a casa appunto Siamo sigillati Però forse Quello che io spero Che succeda nel futuro È di costruire case comunicanti Cioè di Condividere Condividere esperienze È chiaro che Io quando ho fatto quel libro Parlavo Di una casa doppia Della Somalia Dell'Italia Di cosa Di cosa sentivo più mio Però adesso Con Con questa appunto Crisi del coronavirus La casa diventa qualcosa di Molto più grande Anche qualcosa che ti protegge Ma non protegge tutti C'è appunto Chi Dal concetto di casa È escluso E quindi A quelle persone escluse Dobbiamo pensare Cioè dobbiamo Io penso che Il virus Possiamo avere Due Due Modi di uscire Da questa crisi Chiaramente il vaccino Però Uno può uscirne fuori Col fascismo O col socialismo Lo dico In senso Molto Quasi politico Cioè Se non mettiamo In campo Secondo me Delle alleanze Una cura Diversa Per chi Soffre O per chi Nella società Subalterno Abbiamo fallito Cioè non avremmo capito Niente di quello Che ci sta succedendo Perché questo virus Non è casuale È arrivato Perché noi abbiamo Rubato la casa A qualcun altro Abbiamo deforestato Abbiamo Tagliato alberi Abbiamo tolto Abit naturali A pipisterelli E a altri animali Quindi il virus Ha cercato altri ospiti Noi siamo diventati La casa del virus Perché abbiamo Strappato la casa D'altri Dobbiamo avere cura Del nostro pianeta Perché il nostro pianeta È la nostra casa Eh già Ijaba Secondo te I rischi Dell'odio Li abbiamo Già toccati La riscoperta Di che cosa Significa casa È una riflessione Su chi magari Non ce l'ha Ce la siamo detta Secondo te C'è qualche cosa Di buono Che questa Che questa situazione Ci sta Portando a livello Di consapevolezza A livello Di riscoperta Allora Io non so Se una malattia Può essere Buona o cattiva Sicuramente La malattia Entra nei nostri Corpi E ci cambia E io penso Che Se Riusciremo A riflettere Su quello Che ci sta succedendo Allora Forse sì Potrebbe essere Anche una cosa Positiva Io penso Per esempio A tutta una Geopolitica mondiale Che invece Di basarsi Sulle guerre Potrebbe basarsi Sulle alleanze Questi giorni Lo abbiamo visto Cioè l'Italia Ha avuto aiuti Da Cuba Persino Dalla Somalia Sono venuti 20 dottori somali Ad aiutare l'Italia E ho visto L'Italia Appunto Nei pensieri Di tanti Allora Capire che Il nostro paese Non è un'isola E che abbiamo Bisogno di tutti Per poter Anche sopravvivere Noi Quindi creare Ponti E non muri Ecco Se c'è il virus Ci insegnerà questo Allora Potremo costruire Un altro mondo La mia paura Che invece Che alcuni Invece Prima abbiamo parlato Del presidente Negli Stati Uniti E invece Usino questo virus Per creare più paura Invece Noi non dobbiamo Veramente superare La paura Perché come dice Un proverbio spagnolo Vivere con miedo È come vivere a medias Vivere con la paura È come vivere a metà Quindi dobbiamo In ogni crisi C'è anche L'altro aspetto C'è l'opportunità No? E quindi Secondo me Dobbiamo veramente Costruire ponti Come gli albanesi Ci stanno aiutando I somali I cubani Anche noi Un giorno Potremmo Fare uno scambio Io penso questo Speriamo Però non lo so Quello che succede La speranza è questa Però Eh sì Davvero Senti Java Ci racconti Il tuo ultimo libro Uscito da poco Che si intitola La linea del colore Che è un Un titolo sintesi Delle cose Che ti interessano Questo è un romanzo storico Con una donna Nera Al centro Una donna artista Al centro Che si innamora Dell'Italia Ce lo racconti È stranissimo Per me Parlare del libro Perché è un libro Sul viaggio Sul viaggio in Italia In un momento In cui nessuno Può viaggiare in Italia Nemmeno noi Che in Italia Ci viviamo No? È stranissimo Perché io ho passato Gli ultimi due anni A fare proprio Andare a vedere i posti Che ho raccontato Nel libro E adesso quei posti Sono assolutamente Inaccessibili È qualcosa Che mi colpisce In un certo senso Però spero Che proprio perché Quel viaggio Adesso è inaccessibile Magari che anche Noi italiani Cominciamo anche A scoprirlo Questo paese Perché È un paese bello E io Ho notato Questi giorni Che le persone Lo stanno capendo Molto spesso Presi dai nostri Problemi quotidiani Non guardavamo Roma Venezia Non guardavamo Firenze Invece Circolano molto Su internet I video Sulle nostre città E le nostre città Sono belle E questo è quello Che ha capito La Fanu Brown Che era appunto La protagonista Che è la protagonista Del mio libro Lei è una donna Afroamericana Nativa americana Che ha il sogno Di andare in Italia Perché vorrebbe Abbandonare Tutta una serie Di tristezze Che le sono capitate E l'Italia Più che altro Ha una funzione Di sogno Di un viaggio Difficile ma possibile Per lei E io mi sono ispirata A due donne Realmente esistite Edmonia Louise E Sarah Park Raymond Che sono vissute A metà del XIX secolo A Roma E questa cosa Era meravigliosa Due donne nere A Roma Era qualcosa Che per una romana Come me Era qualcosa Di meraviglioso Però ecco Io ho aggiunto A questa storia Una parte moderna Cioè la parte Del viaggio Delle migrazioni Di una giovane donna Che si chiama Binti E di questa sua cugina Che vive in Italia Che decide di fare Il viaggio Dalla Somalia All'Europa Un viaggio negato Volevo in qualche modo Far vedere Come stiamo facendo Soffrire le persone Per desideri Che sono di tutti E molte persone Che hanno letto Questo libro In questo momento Di quarantena In cui Veramente Siamo sigillati Nei nostri confini Mi hanno detto Che La cosa Che ha colpito Di più È il fatto Della Negazione Del viaggio A chi vive Nel sud globale Allora Io penso Che nel prossimo futuro Noi Ma proprio Per la salvaguardia Di tutti Dobbiamo permettere Che una cosa Così preziosa Come il viaggio Non sia Nelle mani Di trafficanti Perché Anche banalmente Per una Faccenda medica Cioè Se tu hai Dei viaggi Legali Legalizzati Delle persone Che vengono Dal sud del mondo Al nord del mondo Sai chi sono Non sono persone Che stavano Dentro un lager Che non Non senza documenti Eccetera Quindi La legalizzazione Serve a tutti E poi serve anche Quello che dicevo prima È uno scambio Uno scambio Tra nord e sud A me piacerebbe Vedere I medici italiani Studiare in Africa I protocolli Di ebola Per dire Quindi studiare Le epidemie E medici somali O i africani Venire in Italia Cioè potrebbe essere Uno scambio Ma io ho detto Medici Per dire tutti No? E quindi La storia È nata da questo È nata però anche Da una riflessione Sul turismo E appunto Voi siete a Venezia E sto a Roma Sono due città Che sono state Quasi ammazzate Dal turismo di massa E io penso Che una cosa Che si dovrà Discutere molto Su questo Che tipo di turismo Vogliamo avere E la mia personaggia È una viaggiatrice È una viaggiatrice Che sa dove va Sa che cosa succede Porta anche lei Un suo contributo Al luogo Che visita E poi che diventa Il luogo Della sua residenza E io ho voluto In qualche modo Fare emergere questo Fare emergere Un viaggio Più consapevole Un viaggio possibile E sicuramente In questa Italia Ci sono tre Italia Con questo concludo L'Italia coloniale Con cui apro il libro L'Italia invece Che io definisco La black Italy Fatta di quadri Di persone Appunto Di presenze nere Nell'arte italiana E poi c'è L'Italia del contemporaneo Che deve Appunto ricordarsi Della bellezza Che ha E deve Diventare Una bellezza solidale Non una bellezza Mordi e fuggi Per pochi Ma una bellezza solidale Che ci faccia crescere Come cittadine E cittadine E soprattutto dopo Questa crisi enorme In cui siamo sigillati a casa Forse quello che dobbiamo fare È questo Usare la bellezza Per costruire un mondo migliore È la terza volta Che dopo che tu hai parlato Io rispondo È già È assolutamente Sono assolutamente d'accordo Parlando a proposito di Italia La black Italy Vorrei appunto Un tuo commento Su quest'altro lavoro tuo recente Che ha Credo Proprio colmato un vuoto L'antologia Di racconti Di scrittrici Afro-italiane Ci dici di questo progetto Che cosa ti ha fatto scoprire Che cosa vuoi che faccia A livello di consapevolezza Per noi lettori Allora Noi abbiamo Adesso abbiamo Uno dei settori Che sarà Abbastanza devastato Purtroppo Nel post-coronavirus E anzi Adesso È già devastato E lo sarà temo anche dopo È proprio il settore editoriale Perché comunque Il rischio grosso Che vedo E che rimangono solo Le grandi major E che possano scomparire O comunque vivere molto male I piccoli e medi editori Invece Noi abbiamo bisogno Di piccoli e medi editori Perché sono loro In qualche modo Che In qualche modo Scoprono storie nuove O danno la possibilità Di avere spazi nuovi E io ho fatto Questo lavoro Con un editore Di Toscano FQ Che sono due ragazzi Molto molto in gamba Silvia Costantino E Francesco Quatraro Quando ho proposto Appunto L'antologia Loro mi hanno detto Subito di sì Perché io sentivo Proprio un vuoto Nell'editoria italiana Di voci Che vengono Che non solo vengono Sono di qua Ma che portano Sulle spalle un altrove E quindi ho pensato Cominciamo Dalle donne afro-italiane Dalle giovani donne afro-italiane E anche perché Io sono afro-italiana Sono somali italiana Ma sono nata nel 74 Quindi Ho anche Ho anche Fatto da poco Il compleanno In quarantena Però la È chiaro che Il mio tipo di racconto Che è un racconto Che continuerà Però È legato alla mia Anche Formazione e generazione È anche Una rabbia diversa È anche Un'Italia diversa Cioè io Mi sono permessa Di scrivere il Grand Tour Perché in qualche modo Mi sono nutrita Di libri Di Jane Austen Anche se lei non parla Di Grand Tour Però è una Scrittrice dottocentesca Ma penso Eric Wharton Penso Henry James Cioè ha avuto Tutta una Una mia formazione Che era Molto molto europea Invece Ho notato Che E poi ho scoperto L'America Latina E l'Africa Che sono state Delle scoperte Fatte dopo i 18 anni Invece Ho notato Come le giovani donne Hanno una fame Di Africa E una Quasi Non so Quasi Quasi disperata No? E in un certo senso Perché Oggi C'è una rabbia diversa Una rabbia forse Più forte Perché il razzismo Ha colpito Molto duro Negli ultimi anni È stato molto presente Come ideologia Il razzismo Quando ero nata io C'era il razzismo Non è che non c'era Ma era diverso Era Era anche più becero Ma più di strada Però il politico Non si sarebbe mai permesso Invece adesso Abbiamo una politica Una media Che usano Sistematicamente Il razzismo E chiaramente Questo porta Una rabbia Molto Molto forte E Un'italianità Anche molto Lontana Cioè io Mi sono Ho visto Una Per me l'Italia Non è mai stato Un vero problema Cioè è sempre stato Qualcosa Con cui Avere a che fare Su cui puntare il dito Quando appunto Tutti i miei lavori Sul colonialismo Eccetera Però non era qualcosa Che odiavo No E Le ragazze Della mia antologia Non è che odiano l'Italia Però Hanno un rapporto Molto più conflittuale Rispetto a quello Che potevo avere io Alla loro età Perché In qualche modo È un'Italia più dura Quella che hanno vissuto È un'Italia Molto più sorda E Questo mi interessava Moltissimo Mi interessava mettere Proprio L'occhio Su questo E capire Che Le differenze Poi Comunque Con questo concludo Le giovani scrittrici Che Che ho trovato Sono anche Scrittrici Di talento Che hanno In qualche modo Un immaginario Una Una voglia di scrivere Di fare E Secondo me Dopo la prima ondata Di scrittori Cosiddetti migranti Una cosa A termine che non mi piace La scritta Non esiste La letteratura Migranti Esistono persone Che scrivono in italiano Che hanno un altrove Però Quando Io sono uscita fuori Come scrittrice Ce n'erano tanti Come me C'era Cristina Lifara Gabriella Curuvilla Cioè Eramo tanti E tante E improvvisamente Zero Non c'è più stato nulla Nell'editoria E quindi Secondo me Invece Vanno ascoltate Le ventenni E Va dato spazio A tutti E mi chiedo Perché Il rischio Perché il rischio Che si corre È di avere Poche storie Borghesi Nel futuro E poche storie Propinate solo Dai major E non E non Questo Questo è un pericolo Che sento Ecco perché Che per me Future È stato Un Un passo Importante Come lo è anche La linea del colore Perché I miei progetti Dialogano No Il romanzo In qualche modo Parla anche Di rabbia No E quindi Sì Io cerco sempre Di fare più cose E speriamo Che possiamo Continuarle a fare In un'Italia Che comunque Già È in un affanno Prima Editorialmente Adesso Sarà molto Molto da vedere Questa cosa qua Lavoro davvero Prezioso E a proposito Di storie future Credi che Come scrittrice Questo Virus Sarà fonte Di ispirazione Entrerà Nella tua scrittura O senti che In questo momento La scrittura Non è possibile Dato che Hai dovuto Tagliare il tuo Rapporto col mondo Diciamo No No La scrittura Per me È sempre possibile Io Appunto Ricordo sempre a tutti Che sono di origine Somala E questo Significa Trent'anni di guerra civile Sul gruppone E Quella guerra civile Ha veramente Frantumato La nostra famiglia I nostri affetti Il nostro mondo E questa frantumazione L'ho vissuta Ed è stata dura Però non mi ha mai impedito Di scrivere Anzi mi ha portato A più scrittura Io penso che Io Personalmente Continuerò Sulla mia strada Dello scavo storico Perché Per capire Il presente E il futuro Dobbiamo Anche capire Il passato Anche vedere Il passato Con nuove lenti Io penso Che continuerò Su questa strada Sicuramente Una cosa Che non voglio fare È scrivere Il diario Della quarantena Questo Perché molti giornali Hanno scritto Diari Di persone Che Dalla finestra Della loro bella Casa In Campania In Normandia Vedono E parlano Dei massimi Sistemi Ecco Quello no Perché quello È proprio L'insulto Alle persone Che adesso Soffrono E alle persone Tutti stiamo Soffrendo Ma c'è chi Soffre di più Un conto è soffrire Nella villa In Campania Un conto è soffrire In 40 metri Quadri In 6 E quindi No Quella roba lì Non la farò mai E Tecnicamente Quello che voglio fare È Proprio Continuare Lo scavo Storico Per capire Cosa ci Capiterà Nel futuro Perché Io penso Che Vedremo Tantissime Cose nuove E Queste cose nuove Non è detto Che siano Tutte negative Quindi dobbiamo Cominciare A Creare Un nuovo mondo Perché anche Detto fra di noi Il mondo di prima Mica tanto normale Era Cioè La gente moriva Nel Mediterraneo La gente moriva Nelle frontiere Nella frontiera Messico Stati Uniti Lo sfruttamento Del lavoro Le violenze La pedofilia Quindi forse E per non parlare Dell'inquinamento Forse costruire Un mondo nuovo Se non lo facciamo adesso Se non ora quando Cioè Ijava Grazie infinite Per aver condiviso Con noi Il tuo tempo Le tue riflessioni La promessa È naturalmente Un incontro Dal vivo A Venezia A Venezia Con la gondola Non sono mai salita Su una gondola Però Allora La promessa È la prossima volta Dal vivo a Venezia In gondola Un abbraccio Ijava E grazie infinite Davvero Grazie Ciao Ciao in croci Vagano Vagano Vagano